cari ascoltatori vi saluto calorosamente nel prezioso nome di gesù cristo molti si sono rallegrati dei sermoni del fratello brana che ho tradotto in tedesco coloro che riflettono su ciò che dio ha fatto hanno preso nuovamente coscienza che il regno di dio non consiste solo in parole ma nella potenza e nella dimostrazione dello spirito santo tutte le religioni hanno parole ma gesù cristo ha promesso voi riceverete potenza quando lo spirito santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in gerusalemme e in tutta la giudea e samaria e fino all'estremità della terra i veri testimoni di gesù cristo erano in grado di testimoniare sempre di nuovo ciò che dio aveva fatto nelle loro vite e attraverso il loro ministero in un modo speciale il signore ha potuto utilizzare il fratello brana nel nostro tempo attraverso il suo ministero il signore ha voluto mostrarci nuovamente che stiamo vivendo nel tempo in cui tutte le cose devono essere riportate allo stato originale in cui la chiesa del nuovo testamento si trovava all'inizio non appartengo a nessuna denominazione che debba rappresentare posso quindi dire chiaramente ciò che deve essere detto alla chiesa di gesù cristo e non ho bisogno di nascondere nulla della parola di dio è difficile collocare le diverse denominazioni perché molte di esse includono alcune verità bibliche nella loro proclamazione ma rifiutano altre verità delle sacre scritture per quanto io possa giudicare lo spirito di dio non ha cessato di operare allo scopo di completare la chiesa ciò che è iniziato di nuovo nei giorni della riforma da allora è stato nel processo di crescita che è iniziato di crescita 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 molti si sono fermati alle stazioni intermedie e si sentono legati alle confezioni di fede e quindi non hanno seguito l'opera di dio in corso le sacre scritture testimoniano che non è l'inizio ma la fine della nostra vita di fede ad essere coronata perciò non dobbiamo fermarci a nessuna delle confessioni di fede esistenti ma andare avanti in modo che il signore possa portare a compimento la sua opera in ogni individuo diverse chiese si sono specializzate in certe cose senza proclamare tutto il consiglio di dio il compito di un vero servitore di dio tuttavia non è quello di celare qualcosa al popolo di dio ma di dare istruzioni su tutto ciò che dio ha ordinato per i suoi ora al termine della chiesa del nuovo testamento è lo stesso che all'inizio noi tutti abbiamo letto i vangeli e sappiamo in che modo il signore ha chiamato i suoi discepoli e li ha incaricati di parlare e scrivere affinché tutto fosse stabilito e organizzato nel regno di dio in modo biblico i quattro evangelisti hanno descritto il passaggio al nuovo testamento in modo speciale hanno collocato il ministero di giovanni battista sulla base della parola profetica e hanno descritto la nascita di gesù cristo le sue sofferenze e la sua morte facendo ripetutamente riferimento ai passi scritturali dell'antico testamento poi è venuta la fondazione della chiesa del nuovo testamento con i suoi doni e i compiti da svolgere paolo fu utilizzato dal signore in un modo speciale per presentare il piano di salvezza di dio sia che si trattasse inizialmente della predicazione tra i giudei o più tardi della predicazione fra i gentili lui era guidato dallo spirito santo e trovava la parola giusta per collocare tutto biblicamente in atti degli apostoli capitolo 13 lui rimproverò gli ebrei di non accettare la salvezza in cristo e di non considerarsi degni della vita eterna e che ora si rivolgeva ai gentili questa non fu una decisione di paolo no fu l'adempimento della parola profetica in isaia capitolo 49 versetto 6 sta scritto egli dice è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di giacobbe e per ricondurre gli scampati di israele voglio fare di te la luce delle nazioni lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra paolo guidato dallo spirito santo sapeva che era giunto il tempo in cui la buona notizia del vangelo di gesù cristo doveva essere predicata a tutte le nazioni gentili questo sviluppo era stato predetto dal signore gesù quando egli dè del grande incarico di predicare il vangelo a tutte le nazioni fino ai confini della terra poco prima paolo si era rivolto agli ebrei con le parole guardate dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti guardate o disprezzatori stupite e nascondetevi perché io compio un'opera ai giorni vostri un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la raccontasse ci sono sempre state persone sulla terra che non hanno creduto e non hanno avuto fiducia nell'opera di Dio non hanno potuto distinguere tra l'opera dell'uomo e l'opera di Dio ma ci sono state anche persone in ogni tempo che hanno trovato grazia presso Dio che si sono lasciate guidare dallo Spirito Santo che hanno riconosciuto l'opera di Dio e hanno partecipato a ciò che il Signore stava facendo con piena certezza viviamo ora negli ultimi giorni del tempo della grazia il Vangelo sta arrivando alla sua conclusione tra i credenti delle nazioni Dio si volgerà presto di nuovo agli ebrei come nazione espanderà su di loro lo spirito di pentimento di grazia e di supplicazione nella stessa maniera in cui ci fu una svolta in quella prima generazione che Dio si rivolse dai giudei ai gentili così accadrà ora alla fine di questa generazione che Dio si volgerà dai gentili ai giudei ci sono credenti che non sono guidati dallo Spirito e non sono istruiti dalla parola di Dio loro vanno dietro ai loro propri pensieri senza che il consiglio di Dio sia loro rivelato il Signore Gesù ha parlato di due eventi particolari in Luca capitolo 21 il primo riguardava la distruzione di Gerusalemme riguarda questo egli disse dal versetto 20 quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti allora sappiate che la sua devastazione è vicina e gli diede istruzioni su cosa dovevano fare i credenti che abitavano in Giudea in quel tempo per gli ebrei quelli erano i giorni dell'ira e del castigo per aver rifiutato Cristo il loro Messia e per non aver riconosciuto il tempo della loro visitazione divina di grazia il Signore Gesù stesso disse perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo chi legge Luca capitolo 21 versetti 20-24 deve sapere che questo brano si riferisce assolutamente ed esclusivamente al popolo di Israele e che l'intero testo si è adimpiuto nell'anno 70 d.C. in quel tempo il generale romano Tito assediò e distrusse la città un giudizio d'ira cadde su di loro i rimanenti israeliti furono condotti via tra tutte le nazioni gentili l'ulteriore parte in Luca capitolo 21 si riferisce al nostro tempo andremo più in dettaglio nella prossima trasmissione cari fratelli e sorelle cari amici è importante in questo tempo ricevere non solo la lettera della parola ma la rivelazione attraverso lo Spirito Santo per riconoscere ciò che Dio sta facendo ora e per capire quali promesse Lui ha fatto per questo tempo proprio come all'inizio della Chiesa del Nuovo Testamento i servitori chiamati da Dio proclamavano le Sacre Scritture secondo la rivelazione divina così sta accadendo in questo tempo siamo consapevoli che la maggioranza dei credenti delle nazioni sarà ora come la maggioranza del popolo di Israele alla prima venuta di Cristo non si rendevano conto che le promesse più grandi e preziose si stavano adempiendo davanti ai loro occhi e che la parola stessa si era fatta carne e abitava in mezzo a loro così i credenti in questo tempo si aggrappano a varie interpretazioni delle scritture tradizioni e usanze è solo un residuo timorato di Dio che è serio riguardo alla loro benedizione e al seguire Gesù Cristo è chiamato fuori e illuminato dallo Spirito Santo che Dio dia a tutti gli ascoltatori la grazia di afferrare ciò che è in gioco adesso preghiamo Padre Celeste ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua preziosa e santa parola e per il tuo Santo Spirito che ci guida in ogni verità ti prego ora per tutti coloro che hanno ascoltato questa predicazione radiofonica sii vicino a loro benedicili e illuminali lo chiedo nel nome di Gesù Cristo Amen Amen Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.